ciao ragazzi parliamo di 15 anni fa esattamente gennaio 2006 in Brasile io e Luca Zed abbiamo fatto 31 giorni le riprese sono quelli di 15 anni fa quindi stabilizzazione zero eccetera eccetera però il video è molto interessante ci sono anche dei pezzi molto folkloristici ok la spiaggia che vedete è quella di Copacabana ciao ragazzi godetevi il video ciao ciao da Renataus ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.